Oggi parlo di un argomento un po' spinoso, ma molto attuale, secondo me anche molto importante per tutti coloro che si cimentano con i concorsi di musica, concorsi pianistici, concorsi per violino, eccetera, eccetera. C'è sempre nei regolamenti dei concorsi una regola assolutamente giusta, credo anche obbligatoria, che scrive che se ci sono concorrenti i cui insegnanti si trovano in giuria, essi possono iscriversi ma gli insegnanti non dovranno votare per loro, dovranno astenersi dal voto per quanto riguarda il giudizio dei propri allievi. Se questa è una regola apparentemente giusta e sembrerebbe quasi sufficiente per assicurare uno svolgimento regolare del concorso, in realtà è una regola che consente comunque a un giurato che volesse anche inconsciamente avvantaggiare il proprio allievo che si trova a competere di trovare varie scamotage per favorire i propri allievi. Basta ovviamente, ad esempio, pur astenendosi dal votare il proprio allievo, votare in maniera svantaggiante, svantaggiosa per i concorrenti più bravi che potrebbero quindi in qualche modo superare il proprio allievo, oppure fare degli accordi più o meno espliciti con altri giurati che avessero anche degli allievi in giuria e quindi fare quello che in politica si chiama voto di scambio, cioè io non voto per il mio ma voto molto bene per il tuo allievo e tu ti asterrai da votare il tuo ma votare molto bene per il mio. Queste sono cose che purtroppo io so essere successe, ho visto con i miei occhi, in diversi concorsi e, ripeto, forse sono anche meccanismi, ripeto, inconsci, non decisamente fatti in mala fede, ma accadono. Cosa fare quindi? Beh, o rifiutiamo di partecipare ai concorsi o, se partecipiamo ai concorsi, cerchiamo magari di leggere nel regolamento che ci sono delle regole un po' più strette ed è per questo, ad esempio, che ho proposto e sono contento che sia stata accolta questa mia proposta al concorso di Nasalagallo di Monza di mettere una regola molto molto più stretta, più intransigente, cioè che qualunque allievo che abbia fatto non soltanto dei corsi regolari, ma anche soltanto una lezione in un masterclass come allievo effettivo negli ultimi sei anni con uno dei giurati del concorso non potrà partecipare al concorso. Molto semplice. Questa è una regola, se vogliamo, anche un po' estrema, perché è vero che a me è capitato di trovarmi in dei concorsi, in giuria, e di leggere nei curriculum gli alcuni candidati che avevano studiato anche con me io non mi ricordavo neanche i loro nomi, perché magari si trattava di un masterclass fatto cinque anni fa in cui magari ho fatto soltanto mezz'ora di lezione a quell'allievo, quindi è vero che non necessariamente questo è, come dire, un requisito indispensabile, però abbiamo voluto dare un po' un segno anche, se vogliamo, estremo, ma che volesse in tutti i modi scongiurare la possibilità di avere dei conflitti di interesse, anche involontari, tra giurati e concorrenti. Io penso, rendo io da concorrente partecipato a molti concorsi, che l'esperienza del concorso per concorrente sia un'esperienza importante e possa avere anche, come dire, delle ripercussioni positive o negative profonde anche a lungo termine. Non soltanto quando concorso lo si vince, ma soprattutto quando non lo si vince, quando ci sentiamo magari non adeguati a quel livello e diamo troppa importanza al risultato. Ecco, da questo punto di vista quindi la responsabilità di chi si trova in giuria è molto alta, perché veramente rischiamo di incoraggiare da un lato, ma anche di frenare l'entusiasmo, di spegnere del tutto l'entusiasmo di alcuni talenti che a causa di quel risultato potrebbero non proseguire con lo stesso entusiasmo la loro ricerca artistica. Quindi in qualche modo garantire lo svolgimento nella massima serenità e senza alcun conflitto di interesse, secondo me è importante nel rispetto proprio di chi investe tempo nel partecipare ad un concorso. E poi, appunto, anche per questo un'altra regola che abbiamo inserito è quella che prevede che tutti i concorrenti che non saranno ammessi alle fasi finali del concorso, perché prima c'è una preliminare con un video, comunque riceveranno dai giurati della giuria preliminare alcune righe di commento, quindi ci sarà comunque un rapporto. Ognuno avrà un riscontro, avrà delle opinioni su come ha suonato secondo ciascun giurato e quindi dei consigli per proseguire. Penso che l'importante nei concorsi siano le occasioni di nuove relazioni, di nuovi stimoli artistici, di nuovi incontri e questo secondo me è un diritto di tutti, anche di chi magari non riesce a superare una prima prova.